E' un incubo terribile. Ho sognato di andare indietro nel tempo. Bene, ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955. 1955? Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una Deloria? Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? Ehi, McFly! Quella a cui ho lavorato per tutta la mia vita. Ma tu sei, mia mamma. Mia mamma. 1,21 gigawatt! Ti rivalderò indietro nel futuro! Di nuovo! Mi haccionato in unoder! Mi haccionato in uname! Mi haccionato in un pare. Mi haccionato in un'unico di più folle! Ok, te lo eat! Lo do!